Benvenuti dai Malefici 6 Salve! Siete tutti qui per il colloquio? Anch'io! Tu cosa guidi? Io la bici jet! La stanno aspettando, signor Groon! Oh, bene! Grande! Eh, ci siamo! Illustri cattivi! Il mio nome è Gru! Probabilmente sto parlando con un tono di voce troppo alto, anche se la nostra distanza non richiede tale volume! Credi sul serio che un ragazzino insignificante possa essere un cattivo? Sì, sono davvero cattivissimo! Meglio non contraddirmi! Torna quando avrai fatto qualcosa di malvagio che mi impressioni! Ha preso la pietra! Prendetelo! Eccolo lì, quella droncola! Go, go, go! Guida-lo! Guida-lo! Otto, riporta la pietra alla tana! Io li distraggo! Oh, è che è qui! Ci penso io! È il giorno più bello della mia vita! Questo ragazzino ha rubato qualcosa ai peggiori cattivi del mondo! Sì, 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 ora sarò un super cattivo. Dunque, mi serve solo Otto. Dov'è Otto? Sì, 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 poi ne posso parlare della pota. Non provare a raccontarmi i frottole. Otto, dov'è la pietra? Uh, vega storia. Porca le d'ondro, quando le pari pari me ne... I maco, bai chi berger? La papicuarelle. Oh no, la partita, la vola. Basta, è la pittu. Dole, poto stoppa. Ah, bai chi, la ghietta. Ah, papagato, palentino. E là, la punella. Oh là là, l'è bello, bellissimo. La giruto. Topissimo, no? Tu hai appena barattato il mio futuro con una... pietra domestica? Sì? Non volevo spaventarvi. Allora, dov'è Gru? Grazie.